Musica Beautiful Friends, buongiorno, benvenuti e bentornati sul canale Oggi un nuovo video, video, vlog, penso che o oggi o domani Qui, comunque, non lo so, vedremo se uscirà, diciamo, due giorni o un giorno Perché anzi, perché oggi ho iniziato questo vlog un po' tardino Che sono le 2-5 di pomeriggio E niente, prima di iniziare il video vi invito ad iscrivervi all'assolutamente il mio canale Visto che stiamo salendo man mano, cioè man mano Siamo arrivati a 940 iscritti, mi raccomando, iscrivetevi tutti quanti Attivate la campanella per non perdervi nessun B Anche se, vabbè, dopo vi dico Mettete il like, assolutamente, il commentario qui sotto se vi piace questa tipologia di video Comunque vedrete, prima un altro video perché dopo devo registrare una cosa Vabbè, iniziamo il video che a me Stavo dicendo, questo vlog qua lo vedrete più in là perché Devo registrare, insomma, un video delle aperture delle uova di Pasqua Tanto ve le faccio già vedere perché usciranno prima quelle Di queste, queste qua C'è quella del Frozen, ho già aperto una E poi questo qua, degli Avengers Allora, perché mi è stata una fan, mi l'ha richiesta Delle aperture delle uova di Pasqua E poi, infatti, dopo, vado a registrare, insomma, questo video qua Poi, sto facendo una cosa su YouTube E cosa volevo dirvi? Non lo so Bene, aspettate e vi dico subito Mi sono appena ricordata che volevo dirvi Scusatemi davvero tanto Se in questi giorni non avete visto nessun video Perché a parte sono stata un po' insomma impegnata Volevo un po' stare un po' tranquilla in questi giorni E sono voluta un po', diciamo Stare un po' Per me, vabbè, sono stata anche un po' insomma impegnata In questi, in questi giorni Però ho voluto Stare un po' tranquilla in questi giorni E qui, vedete Che sto guardando le Cose delle aperture di Pasqua In questi giorni che ho Appena fatto Con più visualizzazioni C'è questo qua Quello è di letto uova di Pasqua Che apri Ho aperto Quello che comprai Questo qua di Frozen, vedete? Quello che ho Insomma, aperto in questi giorni Ma ne apro Un altro Di uova di Pasqua di Frozen Che mi sembra No, è un po' diverso, vedete? Guardate qua Qui è un po' diverso Mi sembra No, non è diverso È uguale È uguale È uguale È uguale Lo vede Pasqua È ugualino È uguale È uguale È uguale È arrivata la notifica Di un youtuber Aspettate e ritorno Che non posso farvi vedere Che non posso farvi vedere E niente Sono qua Sono le 2.10 quasi Dovrei registrare il video Ma non ora E io farò vedere E io farò vedere più Questa labbra Un po' Come se fosse Boh Diverso Lo vedo Certo Lo vedo Molto diverso Vabbè Non mi sono voluta Truccare Però Mi scocciavo Insomma Di truccarmi Quant'altro Perché Non lo so E sto Devo guardare un video Della Collega qua Che volevo guardare Del canale La bobina E Niente Noi ci vediamo tra poco Ti guado E poi ritorno Rieccomi Sono qui ancora Al computer Ma Non vi preoccupate Che fra poco Vado a registrare Insomma Un video Delle Aperture Delle uova di vasca Perché Scusi Domani Lo metto Dopo Quattro Giorni Che non metto Video Perché l'ultimo Video L'ho messo Vi dico Il Allora Vi dico subito Quanto ho messo Il video L'ultimo L'ultimo Vi dico subito Quanto ho messo L'ultimo video E' stato Quattro giorni fa Che era Domenica 3 Aprile Bevo Per porto Registrare Questo video Quindi insomma Vado a registrare E ritorno E eccomi Eccomi Proprio Manco 5 minuti fa Ho finito Di registrare Il video Delle Aperture Delle uova Di masqua Vabbè Tanto Comunque Vedete Prima Quello E poi Questo Qua Insomma Che Vedete Prima Questo E poi Quello Quindi Questo Qua Lo vedrete Il 8 Aprile Cioè Le aperture Delle uova Di masqua Poi L'altre Questo vlog Lo vedrete Allora Aspettate Insomma Lo vedrete Il Oggi Giovedì Sabato 9 Aprile Perché Voglio fare Anche domani Quindi Sto Qui sopra Cioè Sto Qui sopra Ma vabbè Che Mi pedico Mia mamma Mi sta a fare Un attimo Le melanzane Lo sto facendo Un attimo Io Qui Qui Già ci sono Altre melanzane E le patate Poi Altre Melanzane E qui ci sono I peperoni Da friggere Qui Non guardate Niente Queste sono Vabbè Per fare La ciampotta Vabbè Io ora vado Un attimo Perché Sennò Si Brucicchiano Tanto Sennò Se le Se le Mangiano Bruciate Col cigili Becchiamo Dopo un po' Di tempo Dopo un po' Cioè Ho mangiato Tutto Quanto Ho registrato Il video Ho fatto Sono Il computer Qui Che sto Mettendo Il video Ma tanto Lo vedrete Prima quello Che questo Qua Perché Questo Qua Penso Che lo Vedrete Sabato E ora Ho aspettato Che non E' Per Ricaricare Questi Ecco Questi Qui Questi Se si vedono Gli 823.000 E 891 Perché Devo Devo dire Una cosa Io Praticamente Ero Arrivato A 1.066 Perché Visto Che la Settimana Prossima Parto Non Faccio Le Vacanze Fuori Mi porterò Con me Se riesco La Settimana Alla prossima Allora Partiamo Presto Presto Partiamo La mattina E Poi vi Dicherò Pilla La Destinazione Insomma Dove Vato Qua Già Ho Preparato Insomma La C'ho Qua Già La Viglia Vi Faccio Vedere Un Attimo E Parlo In Nuo E Qui La Viglia Dove L'ho Preparata Faccio Vedere E Questa Qua La Viglia Dove Io Praticamente Mi Sono Preparata Insomma L'ho Preparata Già Da Un Bel Po E Perciò Sto Raccogliendo Qui Cosi Gli So Come Si Chiamano Il Grano Non So Come Si Chiamano Questi Non So Come Si Chiamano Non So Come Si Chiamano Quei Cosi Finti La Sorte Finti Monete Finte E Adesso Da Un Milione Passa Proprio Per Giocare In Macchina Ritorno Quella Mattina Così E Il Telefono Praticamente Cosa Ha Fatto Cioè Tornato Indietro Con Le Manete E Rarrivate A 750 780 Non Ricordo Un Putiferio Un Nervosismo Outro Perché Mi Da Fastidio Questa Cosa Cioè Vorrei Arrivare Almeno Un Milione Per La Quasi Che L'anno Prossima E Niente Sto Sto Aspettando Che Si Carica Tutto Quanto Quello C'è Un'altra Oretta Qualcosa Se Riesco Aspetterò Vediamo Potresti che Lo lasco Lo lascio Tutta la Notte Potre Mi Svegnerò In Notte Lo Spegnerò Il Computer E Niente Io Vado a Dormire Perché Sono Mezzanotte Un quarto Così Mi Sveglio Più Così E Domani Se Devo Fare La Guida Domani Non So Ho Finito Non So So Che Sto Facendo Un Bloc Lunghissimo Lo So Però Così E Niente La Vedete La Borgetta Alla C'è Un'altra Busta E Non sono Fatti E Niente So Che La Qualità Non È Molto Migliore Però Buonanotte Quindi Vediamo Buonanotte Ci Ripicchiamo Domani Mettina Sì Che Se Riuscirò A Troccarmi Qualcosa Ora Vediamo Non Lo So Quindi Buonanotte A domani Buonasera Buonasera A tutti Scusatemi Se non ho registrato Nulla Stamattina Di qualche pezzetto Di Vlog Però Stamattina Mi sono Rialzata Sono uscita Fino Mi ha fatto colazione Poi sono Uscita Stamattina Stamattina Sono uscita Poi Sono Ritornata A casa Ho mangiato Dopodiché Sono Riuscita Poi Adesso Le tre e mezza Dovevo fare La guida Adesso L'ho Arrivata Alla Comunque L'ho Fatto Alle quattro In Le quattro e mezza Quasi Oggi Diciamo È andata Benino Diciamo Più Meglio Dell'altra Volta Non Come ieri Cioè L'altra Volta Ho riprovato E ho riprovato Ho dovuto fare Delle storie Su Facebook Instagram Whatsapp E Tiktok Ma Non ci sta Minimamente Linea Non ci sta Linea Non so Come mai Comunque Sono qua Che so Facendo Una Caminata Non so Il Perché Non va La Linea Chi lo sa Che va Perché Dovevo fare Delle cose Non le posso fare Comunque Sono qua Vedete Sono qua Adesso Ando a Caminare Non mi ritiro Stavo Dicendo Che Ora Mi ritiro Pure Perché Sono Quasi Arrivata Di San Giallo A Destinazione Dove Volevo Arrivare Sono Le sette Sette E mezzo Cioè Ci ho messo Tantissimo Per fare Una passeggiata Una camminata E quant'altro Sia Non è Poi Non è che fa Tanto freschetto Ho avuto voglia Di andare A camminare Un poco Proprio Per Distrarmi Cose Sono stare Sempre Chiuse In casa Infatti Sono qua Che ora Mi Ridiro Penso io E C'è Anche Tra l'altro Il telefono A 28 Ora Vado Un po' Un Un Altro Poi Mi Spiccio A Ritirarmi Perché Sennò Erivo Fino Qua Avanti Cioè Fino Qua Fino Lì Mi Ritiro Cioè Mi Vado Non Ancora Non 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 È Buio Ancora Quando Semmai Farà Buio Sono Torcia Amen È andato Anche La linea Quindi Aspettate E ritorno Da voi Eccomi L'ho comunque tornata La linea Finalmente Dopo un po' Di tempo Oh che odorino Ti ho arrostito Ora Ora Voglio far Vedere Insomma Il panorama Insomma Quello che c'è Sia Da vedere Non è Proprio Eccezionale Quindi Tra poco Ciao Ciao Rieccomi Allora Scusatemi Se Non riesco Mai a Finire Di Fare Cioè Volevo fare Due torri Però Faccio Tre giorni Di Vlog Ma Vabbè Lasciamo Insomma Stare Però Ieri sera Ieri mattina Non vi ho salutato Dato il buon giorno O solo Buonasera Solo ieri sera E quant'altro Ho detto Fano un altro Un po' di vlog Stamattina Un po' di oggi Poverigio E poi finisco Di fare Perché Ho deciso Di portarvi Gomi oggi Anche oggi A fare una camminata Già Avete visto Già ieri Vabbè Sembra In questo vlog Ce l'avete visto Questo Ha terminato Vorrei andare Anche oggi A camminare Insomma Mettiamo qua Questo Qui c'è il computer Dopo Dovedì Me lo preparo Questo Questo computer Insomma Me lo Questo qui Me lo preparo Dov'è di pomeriggio Così In caso Che Anche Dov'è di pomeriggio Ve lo preparo Che se riesco A far uscire Un video Venerdì Mattina Vediamo Dov'è di Notte Venerdì mattina Presto Ho un altro Vlog Così Mi porto con me Dove vado Comunque Già Vi ho fatto vedere Io ho La Valigia pronta Comunque Questo È super Magnifico Questo qua Lo metto In Spice Lo levo Su da Facebook Questo Faccio vedere Eccomi Allora Volevo farvi vedere A che ora A che io gioco Ora Magic Tiles 3 Bellissima Sta canzone Allora Non so come Vips Appeggiare Va bene Faccio vedere Vi voglio far vedere Come gioco Questo qua Questa canzone Qua Mi fa Guarda Vedere Solo con Una Man Ciao Ecco Qui Come vi Avevo promesso Andava a camminare Sono qui Vado a camminare Anche Non è che Farà Quamale Andare a camminare Voglio Mi piace Però Non è che posso andare Tutti i giorni Però Vorrei Vedere Se Posso andare In testa Se Comunque Ho messo Questa Scelta Questa maglia Cioè Il divano Perché Prima Era il vento Il venticello La fase Seva Fraschetto E' diminuito Appare come era Prima Però Come fare con le cosciette Che vorrei Sentire un po' Di musica E vediamo Così Mi giro Perché Già sono arrivata Dovevo Le guardie Inzomma Però Mi rigiro E faccio vedere Come vado Veramente Andava Vado a camminare Avevo promesso Che Andava a camminare Andava a camminare Vado Mi rigiro Che è meglio Dove va? No Arrivo Nel troppo E mi gira Che è meglio Non ero girata Ma comunque Comunque Sono veramente Suata A camminare Come potete vedere Faccio film Mi piace Andare a camminare Per 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 Sto facendo La dieta Comunque Devo per Forza Mi piace Si camminare Però Vorrei Farlo Massimo Due volte Al giorno Anche Una volta Al giorno Che Farà male Però Vediamo Se Riusciamo Due volte Al giorno Vediamo Però Una Mezzoletta Al giorno Non è Che fa male Però Vediamo Ho i cambioli Scam Corte Avete Che Nel momento Di Reservo No Vediamo Come le gira Che è meglio Vedete Così Faccio un altro Po' di Pro Che poi Anche Ma Lo finisco Che A tre Giorno Che lo so Anzi Mi Regurro Comunque C'è Sto Però Penso che Sarà Stralungo Di Minuti Penso che Almeno Una trentina Di minuti Sarà Lungo Faccio vedere Un po' Qua Che stanno Facendo Non Faccio vedere Molto 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 Meglio Dove Stanno Facendo I lavori Se vedete Che mastico Perché L'acciugam In bocca La gomma Sto Facendo La gomma Da Masticare Faccio vedere Solo qualche Così Non so Se Mi riuscite A Sentirmi Ok Sono l'uno e mezza Dunque Sto Facendo Lavori Faccio vedere In bocca Però Non posso farvi vedere Più di tanto Perché Comunque Non è Private Perfino Meglio Che non faccio Nulla Di nulla Niente Vediamo tra poco Anche se Non so Come ha detto Molto Stralungo Questo vlog Si vede Dovete Insomma Abituare Ai Me Vlog Di Minuti Sono lunghi A volte Sono più corti Di minuti Però Quando Inizio a parlare Non finisco più Di parlare Ma che così sono In realtà Di quando parlo Non finisco Perché parlare Sono una Checchierona Assurda Curta Ho cura Stanno Guardando la cosa Ma L'ho detto Anbagliare No Però Non Anche se Mi vede Riuscite a vedere Come si vede Come si vede È nuvola E niente Dopo L'ho detto eccomi scusatemi se mi vedete un po così con i capelli allora sono appena tornata a casuccia come avete visto ero per via perché sono dovuta uscire di nuovo sono tornata a casa prima della camminata poi sono uscita molto ritornata e ora vado a fare un video comunque questo lo vedrete vabbè comunque vado a registrare questo video dove indovino l'età che lo farò uscire domani mattina e questo poi lo vedete il giorno dopo quindi c'è lo vedete l'undici di aprile lo vedete perché oggi è 9 e domani 10 perché domani mattina voglio fare anche un pezzettino di un blog vediamo di perdere vela per darvi la buonanotte per darvi la buonanotte ma che per darvi le buone palme perché domani 10 e sono le palme quindi questo buongiorno buongiorno a tutti come promessa faceva questo altro pezzettino di vlog perché oggi per benedire le palme comunque buone palme a tutti buone palme sto scendendo già a benedire le palme che se no eccoci tra poco metto un attimo la mascherina perché comunque senza mascherina no quindi tra poco eccomi qui ora mi sto ritirando sono da benedire le palme perché visto che non ci sono le palme e questo è poco è durato non vi ho ripreso niente perché mi sembra un po' brutto di riprendere ci vediamo dopo rieccomi sono ritornata dopo un po' di tempo allora ora sono qui stavo dicendo ora sono qui per farmi le unghie già sto preparando il tutto e ci vediamo dopo così do l'ultima clip per poi mandarla domani mattina per martedì o meno domani o meno vabbè a dopo rieccomi sono tornata ho fatto le unghie eccola ho fatto il french faccio insomma vedere un po' è meglio adesso io le faccio vedere meglio allora ecco le unghie dai mette fuoco ecco queste sono le unghiette queste sono le unghie guardate qua scusate per questo scusate per questa ma questa è la la valigia che porterò l'ho messa qua perché lì la devo rimettere scusate per la valigia ma l'ho dovuto rimettere un attimo qui appoggiata perché ho fatto le unghie dove ho appoggiato la valigia c'era tante altre cose quindi ora comunque mi piacciono cioè non è che non mi piacciono però delle qualche imperfezioni comunque ci sono quindi pesa un sacco guardate là cioè tutto mette a posto là sopra metto un attimo a posto e e niente finisco qui insomma il luogo si capelli come usano non vi voglio far vedere qua ho benissimo ma metto così così non vi faccio vedere il disordine sul letto perché ho un po' di disordine devo mettere a posto perché ho preso le cose delle unghie a secondo attivate la camberella così non vi perdete nessun video ecco ciao vi do un bacio e ci vediamo al prossimo video vlog un altro video ciao oh 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 ciao ciao